Diciamo che cosa succede, cosa stiamo prendendo, le misure per fare la segnaletica a orizzonte? Vogliamo fare uno spartitraffico, in maniera da rendere le corsie più contenute. E quindi delineando anche la marcia per evitare che ci siano queste cose. Quindi qua togliamo questa cosa gialla, ripuliamo tutto, lo stop verticale c'è già. Integreremo con la verticale indicando chi può girare dove, lì una zona residenziale sarà installata. E lì il pedonale in modo tale? No, il pedonale no perché questa è una piazza, se una persona non la riconosce vuol dire che ha dei problemi, non può guidare. Non può guidare, però in questo momento manca un po' di segnaletica? No, no, segnaletica ce n'è, c'è da solo da integrare, non dica che non c'è segnaletica perché non è corretto. Se la stiamo integrando vuol dire che non è sufficiente. No, era prevista purtroppo, siccome abbiamo un principio. Ora, parlo di ora, non c'è, ora non è adeguato. Guarda, quello c'è. Quello è basta, perché poi per il resto non c'è più niente. Lo so che è obbligatore, però non è che c'è una carenza così grave. Va bene, c'è una carenza. C'è una carenza di più, è meglio che ci sia. Quindi era prevista e quindi in questo momento... Poi rafforziamo l'isola. Ah, quale? Quella lì. Le strisce, mettiamo le strisce. Quindi anche in quell'isola così mettiamo le strisce in modo tale che... Rafforziamo qui, purtroppo è stata cancellata la mezzeria per dei lavori. Per il resto non è una situazione... Va sicuramente migliorata, va bene. Ma tutto è perfettibile. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi l'attenzione all'amministrazione è massima, come sempre. No, allora, dobbiamo sottolineare assolutamente il fatto che in tempi strettissimi l'amministrazione è intervenuta dopo le doglianze della zona dei residenti per integrare la segnale. L'intervento che è stato fatto penso che sia di rilevanza. È un po' discutibile sui materiali utilizzati, sul fatto che ci sono molte rocchie. No, no, lei non può sentire. Né le facciamo la domanda. Sarà pure rilevante, per esempio, l'ultima è il tappetino delle giostrini che si sta sollevando già. Saranno richiamate le responsabilità. Eh sì, qualcuno ogni tal bisognerà che tiri l'orecchio a chi fa queste cose. Possiamo salutarci? Dobbiamo salutarci mentre voi lavorate ed evitiamo che qui ci siano un sacco di... Anche di giustificazioni, perché con la segnaletica al completo nessuno può giustificare il fatto che non vede... Che qua molti non vedono e invece sta... È un problema di oculista. Quello è anche un problema di oculista, ha ragione, ha ragione. È anche un problema di oculista, quindi d'ora in poi se succede qualcosa è solo colpa vostra. Quindi, occhio, non si può più fare... Aumauma ci sarà la segnaletica. Arrivederci! Aumauma ci sarà la segnaletica.